Mario ricontaci una barzelletta, certo che ve la racconto, allora ci sta l'aglio e la cipolla, conosco soltanto questa, se volete la riracconto, volete che vi racconti di nuovo la barzelletta dell'aglio e della cipolla? Ma che c***o ridi, non ho iniziato, davvero mai sentita? Allora sono contento, allora ci stanno l'aglio e la cipolla, la cipolla dice all'aglio, guarda sopra di te, ma che hai visto il sale? L'aglio alza la testa, la sbatte e fa aglio, porca madonna. Ma perché spammate le risate? Ragazzi, ma così mi fate sembrare un coglione? Ma così vi confondete tra quelli che stanno veramente ridendo? Vi ha fatto ridere davvero? Boh, grazie ciccio dire, grazie per i 25 mesi, bentornati, state facendo la figura di quelli che danno ragione allo streamer al di là di quello che sta dicendo, state facendo la figura delle pecore! Questo è content quindi, no, non è content, oh madonna. Grande Mario, da grande voglio essere come te, se la smettiamo per favore? Ve ne racconto, ve ne racconto un'altra, ok? Perché il mare è inquinato? Perché è pieno di pesci, di pesci! Era uno scherzo, era uno scherzo, era uno scherzo, ovviamente, era uno scherzo. Adesso non si riesce a capire se state ridendo veramente o no. Ciao Alex! Ci siamo? Mario che c***o ridi, no, mi ha fatto ridere perché l'avevo appena... Basta! Basta! Ditemi che faccio schifo! Davi, non regalare l'abbonamento! Riprenditi i soldi, fai il rimborso! Coglione di merda! E che palle! Ma può essere che ogni volta che faccio schifo mi dite bravo e ogni volta che sono un grande mi dite che faccio schifo! Ma che c***o! Non era una battuta, non ho detto una battuta! Non ho detto una battuta! Non ho detto una battuta! Grazie Davi per l'abbonamento giftato! Joy Boy! Joint Boy, vorrei dire! Adesso non ridete per finta! Ma che c***o succede? Vi siete fatti di cocaina? Oh, basta! Basta! Guarda quel primo commento di quel coglione là! Ma che c***o ridi, stupido! Per succello! E' un mese che giochiamo a Fall Guys insieme e ti abboni in questo momento! Grazie per il primo mese! Ti meriti i miei soldi, ma vaffan... Vieni sul gruppo Telegram, quantomeno! Non ti seguo da molto e non ho capito cosa sta succedendo! Sì, sì, e... Certo che non hai capito! Non fanno capire un c***o! Ma perché stanno ridendo tutti? Perché non hanno un c***o da fare! Ciao Giusturall! Grazie per il quinto mese! Ciao Mario, buon lavoro! Minchia lavoro! Sei stato buonissimo! Grazie per il quinto mese! Raccontane un'altra! Va bene! Va bene! Racconto... Racconto un'altra... Racconto un'altra barzelletta! Scusate, ho stanno udito la... Basta ridere! Racconto un'altra barzelletta! Sai che cosa dice uno streamer napoletano a una ragazza che si vuole scopare? Ehi! Sei uno gischianto! Ve ne dico un'altra! Sai come si chiama Caverna di Platone quando si toglie il cappello? Caverna di Pelatone! Ve è piaciuta? Ma che vuol dire mi fa venire voglia di sesso? Porco! Ma smettila! Che puzza è successo, dai! Racconta quella dei tre matti nel manicomio! Ma che c***o ne so! Si vede che sono un grandissimo! Ma è da questo momento oltremodo paradossale che lo capite? Ok, ne dico un'altra, dai! Sapete dove ha preso il lessico... Cappafrenesi? Da Dante! Però sembra che preparate la risata prima di sapere la battuta! Bravo Jov! Mi aspettavo che qualcuno lo facesse soltanto che ovviamente come fai a cominciare tutte le persone a smettere nel momento e nel tempo comico giusto per dire va a f***o tutto quanto insieme! Ci ho messo un po' questa eh! Vedi che eravate sempre nello stesso... Un po' di empatia per favore! Io scherzo quanto c***o mi pare sulla coglionata che è successa fra quei due! Scherzo quanto c***o mi pare! Guarda io sono rimasto in silenzio perché nessuno sta veramente ridendo! Watch party di Tempation Island! Si calmi comico! Ma si calmi comico che cosa? E adesso come c***o si fermano? Devo dire qualcosa di terribile! Non voglio dire qualcosa di terribile! Ma è possibile di qualcosa di divertente! Ah perché quindi ho detto qualcosa di merda fino ad ora? Io non voglio parlare con persone che non sono nel loro prime! Io non sono nel mio prime! Non possiamo parlare di qualcosa? Hai ragione! Ci sono! Va a f***o la viga! Oh! Oh merda! L'onda no! Mala dio m***a! Scherzavo! 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 Scherzavo raga! Scherzavo! Era soltanto per farvi smettere! Scherzavo! 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 Era uno scherzo! Era uno scherzo! Viva la viga! Viva la viga! Viva la viga! Era uno scherzo! Era uno scherzo! Scherzavo! Non è che sto... Che sono zitto! Sto facendo il cosplay di Nanni e dopo che finisci di giocare a FIFA e tornare nel just chatting! Questa faceva ridere davvero! Va bene! Basta così! Basta così! Basta così! Basta così! Basta così! Basta così! Che poi non è manco vero! Non serve che giochi a FIFA! Però vabbè! Chiedi a Omidol se gioca a basketball con te in live! No! Ma che c***o vuoi! Mario mi sono sbordato nelle mutande! Porco di... Ma che c***o! Che schifo! C***o!